Voi siete contrari alla legalizzazione delle droghe leggeri anche se all'interno del movimento c'è dibattito? La Lega è contraria, anzi è contrarissima a qualunque meccanismo di liberalizzazione o di legalizzazione delle droghe, siano esse droghe leggere o droghe pesanti. La droga è droga, è dannosa e nocive, quindi noi non facciamo alcuna distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Siamo contrari alla legalizzazione e quindi siamo fortemente contrari a qualunque meccanismo di depenalizzazione. Proprio in questi giorni all'interno dell'ultimo vergognoso decreto svuota carceri viene prevista la possibilità, modificando la fine giovanardi, di istituire il reato di piccolo spaccio, lo spaccio per piccole quantità, prevedendo tra l'altro una depenalizzazione da 6 a 5 anni, addirittura lo vorranno portare a 4 anni. Anche qua la Lega è non solo contraria, ma faremo una battaglia durissima. Non possiamo permettere che agli spacciatori venga garantita l'impunità.